Dal dialetto nascosto in un certo senso dietro i cognomi siciliani ai blasoni popolari, cioè i comuni soprannomi che vengono dati a gruppi di persone, un viaggio tra le parole e le loro origini, ma soprattutto tra i loro significati. Spesso infatti un soprannome viene utilizzato per offendere oppure per dare un'indicazione del mestiere e degli usi alimentari o persino dei modi di dire. Il dialetto siciliano, immagini e stereotipie, questo è il tema della relazione della professoressa Marina Castiglione, un appuntamento dell'Università Senza Età di Caltanissetta svoltosi nell'auditorium della parrocchia San Pietro e che rientra nel ciclo degli incontri dal titolo Sicilia, Siciliani, Sicilianità. Abbiamo parlato soprattutto di queste immagini che poi diventano degli stereotipi perché sono poi delle generalizzazioni esattamente come a noi meridionali danno dei terroni e noi diamo a settentrionali dei polentoni o come agli italiani si dà dei mangiamaccheroni e ne abbiamo parlato ripercorrendo anche un po' la storia di questo oggetto culturale, ed è un oggetto culturale perché è un oggetto identitario e che quindi si modifica nel tempo, sicché anche nelle stesse raccolte che abbiamo di fino a 800, per esempio dei nisseni, non si diceva affatto ma un zisi, erano altre le nomee, altre le denominazioni, e se tra l'altro andiamo in paesi diversi può essere che noi trasmettiamo immagini sociali diverse, ad esempio per gli abitanti di Santa Caterina noi siamo dei vrudara e quindi sostanzialmente noi nisseni faremmo brodo e quindi siamo delle persone supponenti, un po' così superbe e quindi ciascuno di noi trasmette delle immagini sociali, da un certo punto di vista questa è una cosa negativa, ovviamente ha a che fare con i campanili, ovviamente ha a che fare con le maldicenze, però contemporaneamente ha un tratto positivo che oggi metterò in luce perché in questo attribuirsi dei nomi o dei nomignoli scherzosi o ludici o in ogni caso semplicemente rappresentativi, noi riconosciamo l'altro e di quell'altro estraiamo un attributo e quindi vuol dire che lo conosciamo. Professore associato di linguistica italiana per l'Università di Palermo Marina Castiglione è attualmente impegnata in una raccolta e studio sui soprannomi etnici. Giuseppe P3 alla fine dell'Ottocento aveva cominciato a raccogliere questi soprannomi etnici, me ne aveva raccolti circa un 700, io è da circa l'alto 2010 che attraverso molti miei studenti riesco a, diciamo in maniera più capillare, ad andare sul territorio e a individuare la presenza, assenza oppure il cambiamento e la trasformazione di questi nomi, sicché ne abbiamo raccolti quasi per tutta la Sicilia occidentale e centrale, abbiamo coperto già il Siracusano e il Ragusano, ma restano circa un centinaio ancora di comuni e per ciascun comune devo dire che si continua a raccogliere molto materiale, si continua a trovare ancora una certa vitalità, una certa creatività appunto di questo genere di soprannome. Per cui abbiamo dai giudei per esempio di Salemi, sino ai panzuti dei nostri vicini di Serra di Falco, con le urpe affumate di Sommatino e molti altri che riguardano appunto non soltanto il nostro territorio, ma tutta quanta l'area siciliana e d'altra parte andando fuori dalla Sicilia si ritrovano altrettanti tipi di queste denominazioni.